ok ragazzi buongiorno a tutti ragazzi siamo qui per un nuovo video in minecraft dove grifferemo si torna la serie griff meglio di prima siamo qui ci ho messo tantissimo a trovarlo con la mappa ora dovremmo affidarci a lui sembra molto poveretto però visto che è molto poveretto boh scriviamo semplicemente così facciamo finta di essere stupidi ecco appunto visto che facciamo finta di essere stupidi no lo scriviamo anche male nel dubbio bene andiamo molto lontani il nostro piano e fagli bruciare la casa dal piano di sotto ragazzi esatto non so cosa è successo però ok dal piano di sotto almeno non ci può dare la colpa possiamo continuarlo a griffare basta fare così ho perso la crafting che bello ne facciamo una nuova facciamo così facciamo così ah giusto ovviamente troverò ce lo avremo anche della pietra quindi iniziamo a scavare esatto vedi ok 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 In teoria, siamo sopra la sua casa. Ancora sei blocchi, circa cinque. Ancora sei blocchi, circa cinque. E' stato un gran bottino. Ancora no raga, cioè è più lontano del previsto. O si allontana da solo, oppure lui sta usando il comando per spostare. Faremo un po' schifo. Ancora sei blocchi. 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 raga ce l'abbiamo fatta è il momento lo facciamo? sì che lo facciamo esageriamo un pochino eh no ora noi mettiamo il legno ci allontaniamo ci allontaniamo ci allontaniamo vedremo quando si accorgerà ci allontaniamo ci allontaniamo ci allontaniamo così quando si accorge noi siamo lontani e forse non ci dà la colpa ci allontaniamo ci allontaniamo ci allontaniamo noi ci allontaniamo sempre di più ci allontaniamo lì sta bruciando tutto non se ne accorge era una casa tipo boh abbiamo tutto anche il letto via 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 a gambe allevate forse non ci ha visti per poco ma per davvero poco adesso noi siamo qua nella grotta così lui ci vede siamo qui andando a scavare non sappiamo cosa sia stato purtroppo ecco il punto è che dovremmo scavare velocemente intanto noi il legno ce l'abbiamo ci facciamo una bella piccozza anche tranquille così ecco a posto una bella piccozza stavamo dicendo vedete noi ci facciamo le piccozze stiamo qua a scavare non sono ancora accorto quanto pare o è stupido o non se ne accorto non se ne accorto ha anche una shunting table incredibile poi ditemi se non ha citato ragazzi che brutto fare una sopravvienza e citare e noi andremo a prendergli uno per poco non ci ha visti però se ne accorto noi continuiamo a osservare noi continuiamo a osservare sta sfegnendo tutto ok sappiamo cosa fare noi qua tranquillo guardiamo la mappa oh miseria cosa sta succedendo dobbiamo aiutarlo oh mannaccia ahia ahia noi lo aiutiamo perché noi siamo quelli che gioca tipo a scacchi il problema è che se moriamo ci scopre col bottiglino no tranquillo ah ho una fame incredibile anzi ecco qua da what the fuck è abbandonato ragazzi signori noi concludiamo qua questo video si è incavolato probabilmente cancellerà il mondo o forse avrà una coppia noi lo sapremo lo scopriremo più avanti non può dare la colpa a noi perché l'abbiamo aiutato forse però sospetta qualcosa e lo scopriremo in un prossimo episodio più avanti lasciate un bel po' di like perché questa serie non so non vi chiedo di mettere like è brutto ma per questa serie ragazzi lasciate like così per capire che ne volete un altro episodio e troveremo magari gente più difficile più forte che ci da pochi permessi troveremo di tutto perché adesso questa serie rinizia signori e auguro una buona giornata a tutti noi ci rivedremo più tardi forse per una live non lo so vedremo o magari un altro video di griff se lasciate un bel po' di like lo condividete con tutti e ciao a una bella giornata a tutti